Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, sicuramente è una tecnologia che colpirà praticamente tutti i settori, il nostro in particolare è uno dei più coinvolti e si pensa che, si dice, si pensa che l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, secondo me per quanto mi riguarda dobbiamo noi rubare il lavoro all'intelligenza artificiale, ovvero l'intelligenza artificiale ci fornisce dati, informazioni, argomenti, ci dà molti spunti e molte cose magari alle quali non abbiamo mai pensato. Ecco, questo è il lavoro che dobbiamo rubare noi all'intelligenza artificiale, quindi cercare di ottimizzare tutti i processi, utilizzare l'AI come un copilota e un assistente anche per fare brainstorming, trovare idee, superare magari anche il blocco dello scrittore, il blocco creativo che c'è e soprattutto è importante considerare che l'intelligenza artificiale è brava, è molto brava a darci informazioni generiche ma hanno specifiche, quindi sa di tutto, è come quell'amico o amica logorroica all'interno di un gruppo che parla tanto ma poi non va mai nello specifico, quindi gli piace chiacchierare, gli piace fornirci informazioni e assecondarci però non sa andare nello specifico. Questo vuol dire che i creativi hanno molto margine di intervento sull'intelligenza artificiale perché con le loro competenze preacquisite possono riportarle all'interno dei lavori con l'aiuto e l'ausilio appunto dell'AI. Grazie